Ciao a tutti, con questo video voglio far vedere un esercizio per definire e scolpire i dorsali, cioè la schiena. L'esercizio si chiama pull e il basso e va fatto su questo attrezzo, scegliendo il peso qualcuno, si posiziona in questo modo e bisogna tirare completamente e poi lasciare andare distendendo completamente il dorsale. L'importante è tenere la schiena il più arretta possibile senza inarcarla in questo modo. Tenere la schiena ferma e stendere completamente. Il numero di ripetizioni per questo esercizio deve essere elevato se si vuole fare definizione, quindi scegliere un peso che ci permette di fare 12-15 ripetizioni, oppure se vogliamo fare massa, scegliere un peso più pesante che ci permette di fare 8-10 ripetizioni. Per fare forza, scegliere un peso ancora più pesante che ci permette di fare dalle 3-5-6 ripetizioni. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo, mi raccomando iscriviti al canale perché potrai vincere dei corsi gratuiti con me. Ciao!